Noi vorremmo innanzitutto, sulle missioni, blocchiamo le missioni in mare, quelle che si chiamavano Mare Nostro, un Triton adesso, anche perché la Lega lo chiede da tempo, ma adesso lo chiede l'ONU. Bernardino Leon non è un delinquente internazionale, portavoce dell'ONU, che invita tutti gli Stati europei a creare un vero blocco navale. Il problema della Libia è che arriverà di tutto dalla Libia, mescolati a dei poveracci, a dei clandestini, si sa che arriveranno anche terroristi. Il domani sarà fortemente caratterizzato dall'assismo di oggi. I terroristi si finanziano vendendo petrolio illegale, trafugando opere d'arte e giocando sulla tratta degli esseri umani. Se noi più accogliamo persone, più alimenteremo ancora questi scafisti. Mi pare che è la seconda volta che fanno attacchi alla nostra Guardia Costiera con armi, che pretendono i barconi di ritorno e stanno usando adesso, mi sembra, barche della Guardia Costiera libica. Non ci capiamo più, bisogna lavorare su questo fronte.